e signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel solito classico usuale disordine della mia libreria se vi chiedete il perché del mio look come dire insolito almeno per me c'è un perché perché questa sera questa sera parliamo di un argomento estremamente serio che impone come dire una tenuta impeccabile una tenuta come dire ufficiale insomma per dare come dire il giusto peso al all'argomento trattato perché perché cari signori questa sera si parla di queste cose qui sì 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 proprio loro gli hanebu i famigerati dischi volanti tedeschi cioè allora allora cari signori da decenni ormai si parla si blatera si ciancia si bercia si starnazza si discute sull'esistenza o meno degli ufo gli oggetti volanti non identificati è un discorso lungo è un discorso complesso è un discorso che fare che ha a che fare con come dire isteria di massa buona fede truffatori fessi furbi e indifferenti i dischi volanti scusate i dischi volanti nazisti sono il classico esempio di bufala propagandistica a cui tanta gente vuole credere a tutti i costi in nome di convinzioni pseudo religiose in nome di convinzioni e fede politica in nome di come dire anche dell'analfabetismo funzionale diciamola tutta insomma perché allora sentite un po la fonte è è un vecchio articolo di aerei nella storia del 2009 ok tenete presente questo allora nel dicembre del 1944 il new york times pubblicò delle foto di oggetti non identificati che sorvolavano i cieli di londra e questo oltre a provocare panico nei lettoni new yorkesi accreditò l'ipotesi sostenuta da alcuni che i tedeschi fossero riusciti a costruire dei dischi volanti in grado di attaccare qualsiasi obiettivo la propaganda tedesca di cui abbiamo parlato più volte dava per imminente la creazione di una nuova arma risolutrice e questa cosa aveva dato i suoi frutti insomma la propaganda tedesca che martellava pesantemente su queste armi segrete andò a finire che l'opinione pubblica dei paesi alleati quindi qualcuno anzi più di uno finì per crederci ok e questo paradossalmente costò ai tedeschi anche e soprattutto il bombardamento di dresda sì perché le armi segrete 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 dove vengono costruite queste armi segrete nella silicon valle nazista dresda quindi dresda oltre a essere centro logistico e ferroviario fondamentale per il fronte orientale era anche un importante centro industriale per la fabbricazione delle Wunderwaffen e anche delle spolette d'artiglieria e anche per i periscopi dei sommergibili anche per i sistemi di autoguida delle W1 e delle W2 e per tante altre belle cosucce ma torniamo ai dischi volanti nazisti allora gli Hanebu Mark 1 tipo 1 e tipo 6 e tipo 4 allora in realtà i tedeschi avevano impiantato nei pressi di Praga una fabbrica della BMW che produsse alcuni dei velivoli noti come dischi volanti in questo impianto lavoravano scienziati tedeschi e italiani i quali avevano fatto parte del progetto W2 il primo risultato fu il tipo 1 un disco del diametro di circa 6 metri e alto 2 fu seguito dal Flügerrad tipo 2 in seguito gli scienziati furono spostati a Penemünde dove furono costruite le W1 e le W2 lo Hanebu tipo 4 non aveva pale rotanti ma era un semplice disco aveva un diametro di circa 9 metri una cupola trasparente ai cui lati si trovavano i propulsori che utilizzavano, erano propulsori a reazione, motori a reazione nel marzo 1944 Oibo venne portato a termine il primo collaudo del famigerato W7 un velivolo a forma di disco con decollo verticale e su questo volo vennero scritte le teorie più disparate c'era chi giurava di averlo visto sfrecciare a 2000 km orari altri dicevano che il volo era stato incerto e di soli pochi metri dal suolo l'unica cosa certa era che la macchina propagandistica tedesca esaltò l'avvenimento creando panico fra i nemici ma che cosa c'era di vero? i documenti sul progetto andarono persi o distrutti nel periodo di caos prima che la guerra finisse ma secondo lo storico dell'aviazione Peter Pletschaker si trattava solo di una sottile guerra psicologica e le velocità dichiarate ai tempi erano tecnicamente impossibili da raggiungere guerra psicologica propaganda Goebbels il genio della propaganda il maestro delle balle applicate il maestro del far credere al popolo quello che il popolo voleva farsi sentir dire il maestro assoluto del far aggrappare le persone alle ultime pagliuzze di speranza anche se erano pagliuzze inesistenti ebbe un altro dei suoi enormi successi propagandistici con la faccenda delle armi segrete dei dischi volanti tedeschi allora nel dopoguerra in Canada ci furono dei tecnici canadesi affascinati dal V7 tedesco e ne realizzarono un'imitazione che fu chiamato Avrocar e nel 1961 fu collaudato per la strabiliante cifra di 75 ore era un disco volante dotato di eliche che comprimevano l'aria verso il basso e in avanti ma invece di raggiungere le velocità elevate che i progettisti si erano prefissati l'Avrocar non raggiunse mai una velocità superiore ai 50 km orari perché dopo i 50 km orari iniziava a traballare e a diventare assolutamente instabile e incontrollabile come probabilmente era accaduto al suo ipotetico predecessore e fu un fallimento come il cosiddetto V7 allora l'Avrocar sarebbe questo eccolo qua la vista superiore e la strabiliante quota di 50 cm dal suolo a 50 km orari che bel disco volante insomma vabbè 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 allora allora però 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 che cosa successe e qui ci sono anche nomi e cognomi allora nell'immediato dopo guerra si susseguirono tutta una serie di notizie pubblicate sui giornali di diversi paesi che avvaloravano con tanto di testimonianze e immagini l'affascinante ipotesi e sottolineo ipotesi dei dischi volanti nazisti in particolare e qui data nome e cognome 30 marzo 1950 il settimanale tedesco Der Spiegel pubblicò un articolo in cui Rudolf Schriever presentato come ingegnere affermava di aver progettato una sorta di elicottero a reazione di forma circolare e di 14 metri di diametro con tre motori a reazione collocati sotto le pale di un'enorme turbina al cui centro c'era la cabina di pilotaggio un aereo un mezzo un velivolo capace di alzarsi in volo verticalmente e dalle prestazioni eccezionali ovvero sia 6.000 km di autonomia e 4.200 km di velocità 4.200 km di velocità nel 1944 4.200 km di velocità vabbè allora il 15 aprile 1945 il progetto di Schriever era quasi pronto ma ma oibò egli dovette fuggire per l'avanzata dei russi portando con sé sia una copia di documenti sia un modello del velivolo il 4 agosto del 1948 però oibò i progetti e il modellino gli furono rubati oibò chissà come mai perché spariti improvvisamente vabbè Schriever sosteneva che i progettisti che avevano lavorato con lui avessero realizzato la sua creatura per una potenza straniera ovvero sia l'Unione Sovietica dichiarandosi in grado di poterla riprodurre e di farla volare pochi giorni prima un giornale italiano ovvero sia il giornale d'Italia ecco qua la pagina incriminata questa qui eccola scusate allora dicevo il giornale d'Italia aveva pubblicato un'intervista all'ingegnere italiano Giuseppe Belluzzo che affermava che i dischi volanti erano lo sviluppo di un progetto originale italiano del 1942 successivamente passato ai tedeschi i quali poi lo avevano perfezionato alla fine della guerra i progetti sarebbero stati catturati probabilmente dai russi che avrebbero erano poi costruiti costruito quello che i testimoni occasionali chiamavano dischi volanti o UFO vabbè negli anni successivi queste dichiarazioni furono riprese più volte cercando con nuove testimonianze sempre molto poco attentibili di avvalorarle ma il tentativo fu vano perché mancarono sempre le prove oggettive di quanto Belluzzo Schriever e i loro epigoni andavano affermando tutto questo fece fiorire un vasto numero di opere di fantasia tra i romanzi di fantascienza e fumetti e che fecero la fortuna di numerosi autori allora poi che cosa è successo il passare del tempo e le reali conquiste in campo spaziale fecero dimenticare queste teorie e anche i dischi volanti tedeschi persero il loro fascino fino a un certo punto perché ancora c'è gente che ci crede allora questo fantomatico ingegner Rudolf Schriever a cui chissà come mai fanno sparire progetti e modellino oi boh sparito non c'è più il progetto non c'è più il modellino c'è solo la parola di questo signor Schriever un pochino labile come prova ammetterete anche voi dico bene diciamo un grande classico delle della letteratura misteriosa se vogliamo artefatti artefatti interessanti curiosi particolari fuori dal tempo custoditi in musei in collezioni pubblico private eccetera eccetera che all'improvviso spariscono come nel probabilmente nel famoso deposito dove gli americani custodiscono l'arca dell'alleanza di Indiana Jones ma insomma gente 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 ragionate un attimo su sta cosa eh a qualcuno non viene in mente che si tratta di palle fatte per vendere storie eh a qualcuno proprio questa cosa qui non viene in mente tutto da pigliare per buono neanche la minimo il minimo dubbio sul fatto che certe testimonianze siano talmente tanto campate in aria da essere plausibili quanto una banconota da 75 euro eh eh a voi non viene in mente questa cosa no no eh insomma su via eh perché ci sono i testimoni perché i superpoteri i men in black gli alleati la CIA il KGB e questo e quello e quell'altro e l'area 51 e gli alieni e i rettiliani e Nibiru e questo e quello e quell'altro hanno fatto sparire le prove e se quelle prove non fossero mai esistite eh e se tutta questa storia sui dischi volanti fosse soltanto una trovata propagandistica di Goebbels per caricare per spingere per sollevare il morale della popolazione tedesca schiantata da anni di guerra una guerra che si stava per perdere molto 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 male eh una propaganda che doveva anche colpire il fronte interno nemico insomma signori che vi posso dire non è che ci voglia tanto a capire che si trattava di una trovata propagandistica di una bufala anche di gente in malafede che si inventava storie fantasiose per vendere libri e per fare soldi alle spalle dei gonzi cioè il vero disco volante questo qui l'Avrocar eccolo qua vent'anni di studi per cosa? per ottenere un attrezzo che volava a 50 cm da terra e a non più di 50 km orari e volete far credere che i tedeschi con tutto il loro disordine organizzativo di cui abbiamo parlato più volte sarebbero stati in grado di costruire i dischi volanti signori io non voglio insultare la vostra intelligenza continuando a parlare di questo argomento dico semplicemente che quando si parla di certi argomenti se non ci sono le prove documentali o se queste prove documentali sono oibò misteriosamente sparite chissà come mai sparite scomparse ma Ingegner Schrever dove sono le prove della sua partecipazione al progetto dei dischi volanti i tedeschi me le hanno rubate coincidenza? coincidenza? non credo un abbraccio signori non mi fate ridere per piacere che giocare a fare il man in black come stasera mi sta divertendo veramente troppo cioè insomma signori allora io ai dischi volanti ci credevo da ragazzino quando guardavo UFO attacco alla terra col comandante Stracker e soprattutto con le con le ragazze di di base luna quelle con la parrucca lilla ok e sinceramente ho smesso da un pezzo di credere alle teorie dei dischi volanti o degli esaltati che si coprono di ridicolo affermando cose bislacche i governi che complottano con gli alieni i rettiliani i microchip e Bill Burns che individua la base aliena sotto i monti del Nevada e San Benedetto del Tronto dove ci sarebbe stato un distributore di benzina che sarebbe stato l'imboccatura di una base insomma l'ingresso di una base aliena nascosta signori signori se ci volete credere fate un po' come cazzo vi pare ma poi non vi lamentate se vi piglio per il culo non vi lamentate se vi piglio per il culo cioè i dischi volanti nazisti cioè il discorso dell'esoterismo cioè di queste cose assurde tanto amate dal nazismo non è che ci voglia molto a capire in questo caso veramente che si tratta di propaganda a uso interno e di propaganda per impaurire un nemico che oramai aveva sul tavolo da poker gli alleati all'epoca avevano una scala reale servita Hitler e Goebbels avevano in mano una coppia di due ciascuno se andava bene e non c'è non c'è altro da dire credo si tratta si tratta semplicemente di propaganda cioè gli Hanebu tipo 1 e tipo 4 o il V7 propaganda 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 e tutto quello che è stato scritto dopo dopo la guerra semplicemente gente che aveva come dire adocchiato un sistema per fare soldi alle spalle dei gonzi con come dire un po' di sensazionalismo spicciolo cioè insomma c'era per esempio questo signore guardate questo signore eccolo qua guardatelo bene ecco questo signore dalla bella barba bianca che gli dà un'aria autorevole stile padre Pio in giacca e cravatta cioè è Viktor Schoberger uno scienziato austriaco inventore del cosiddetto motore a implosione che non si sa che cosa sia e non si sa come funzioni ok secondo i sostenitori della teoria degli ufonazzisti questi velivoli avrebbero utilizzato proprio questo tipo di energia ma come funziona non si è mai capito non si è mai saputo non si è mai saputo niente cioè Schoberger Schoberger era uno dei tanti personaggi che gravitava attorno alla corte dei miracoli di Hitler e di Himmler uno che sapeva vendersi bene evidentemente che aveva come dire un po' per fede politica un po' per convenienza trovato un sistema per scroccare un po' di soldi per le sue ricerche ricerche che furono assolutamente inconcludenti perché il primo che mi spiega che cos'è un motore a implosione vince vince il titolo di brutta persona ottima massima ad honorem per l'anno 2018 quindi cari signori io aspetto le vostre considerazioni su questi fantomatici ufo nazisti aspetto come sempre che mi diciate come dire qualche cosa delle vostre idee delle vostre di quello che sapete voi sugli ufo nazisti io l'ho detto cioè non prendiamoci in giro la guerra è una cosa seria questa è semplicemente una bufala neanche tanto raffinata piuttosto evidente che però nel corso degli anni ha avuto un grande successo perché perché il complotto la teoria del complotto gli alieni che avrebbero fornito tecnologia ai tedeschi la mitologica base antartica dei tedeschi in cui avrebbero potuto rifugiarsi i gerarchi nazisti e Hitler al sicuro dagli alleati e dove organizzare la riscossa cioè insomma signori signori compatibilmente col personaggio che sono siamo seri chi vogliamo pigliare per il culo eh pensateci detta come quindi vabbè ripeto cari signori perdonate ripeto perdonate i toni perdonate le parolacce perdonate il tono canzonatorio perdonate anche l'insolito e fighissimo look con cui mi sono presentato questa sera ma insomma cari signori io più di questo non penso che ci sia da dire un gli ufo nazisti sono un mix di balle leggende supposizioni supposte supposizioni e sottolineo supposte e il classico usuale mix la solita panoplia la solita parafernalia di fantascienza esoterismo magia pseudoscienza che circonda da sempre l'immaginario collettivo a proposito del della crociuncinata a proposito del regime hitleriano a proposito di hitler e della sua corte insomma io più di questo penso che non ci sia da dire i dischi volanti tedeschi sono una bufala grossolana una trovata propagandistica che dato il successo che riscuote tutt'oggi era indubitamente ben studiata l'ennesima dimostrazione del genio straordinario di ballista e di propagandista che aveva il diavolo zoppo Goebbels tutto qua quindi cari signori io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e arrivederci come sempre al mio prossimo video buonasera grazie a tutti